Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha conseguito, entro i tempi concordati con l'Unione Europea, tutte le misure del PNRR per l'anno 2022. Sono stati messi in moto interventi per circa 6 miliardi. La tutela ambientale è la priorità del PNRR, sottolinea il Ministro Gilberto Picchetto Frattin. Sulla transizione ecologica sono state destinate le maggiori risorse, 70 miliardi in tutto sui 235 del piano. Gli interventi riguardano l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, la transizione energetica, la mobilità e rigenerazione urbana fino ai provvedimenti in materia di risorse idriche e inquinamento. Tra gli investimenti 500 milioni sono destinati a migliorare la rete del sistema elettrico e 200 milioni al teleriscaldamento efficiente. Inoltre, per quanto riguarda le riforme, negli ultimi mesi sono state adottate misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, criteri ambientali minimi per eventi culturali finanziati con fondi pubblici.